Noto minaccia il vicino con la pistola regolarmente detenuta denunciato dai carabinieri. Tra i compiti devoluto ai carabinieri vi è il controllo ai soggetti che legalmente detengono armi. Costoro sono obbligati a denunciare gli organi di polizia il possesso delle armi e ottenere un titolo per il porto o la detenzione della stessa. Dopo aver ottenuto la licenza e aver acquistato e denunciato il possesso dell'arma, il detentore è tenuto a custodirla con cautela all'interno di donnee locali non raggiungibili a terzi. Periodicamente i carabinieri effettuano controllo ai detentori delle armi proprio per verificare le modalità di custodia al fine di prevenire il furto delle stesse. I carabinieri intervengono anche in caso di liti tra i primati quando uno dei contendenti utilizzo minacci l'uso di un'arma anche se legalmente detenuta. L'ultimo episodio simile si è registrato a noto dove due soggetti per futili motivi hanno litigato tra loro ma uno ha minacciato l'altro di utilizzare l'arma da fuoco legalmente detenuta. I carabinieri, ricevuto la denuncia, sono immediatamente legati in casa dell'uomo per procedere al ritiro cautelativo dell'arma dichiarata e hanno inoltre condotto una perquisizione di iniziativa finalizzata alla ricerca di altre armi o munizioni legalmente detenuti. Al termine dell'operazione di ricerca i carabinieri hanno rinvenuto munizioni non denunciate e una pistola apparentemente giocattola ma abilmente modificata tanto da essere in grado di far fuoco. L'uomo è stato denunciato dall'autorità giudiziaria per la detenzione delle armi e delle munizioni ed è stato segnalato dall'autorità pubblica sicurezza affinché valuti la revoca dell'autorizzazione alla detenzione di armi.